Sono Ivano Dionigi, la parola che ho estratto dal lessico interiore è pazienza, voce latina che ha due significati, ha il significato di capacità di sopportazione, di sopportazione e di sofferenza. È una parola che conosce una significativa evoluzione. C'è una prima fase, che è la fase classica, dalla grande epica di Omero e dell'Iliade, cui tutto è un ino alla guerra, all'eroismo, nel segno della forza, dalla sopportazione, del coraggio e nel nome della gloria. È questa anche la fase della grande tragedia. Edipo che affronta ogni avversità pur di conoscere quella verità che lo condannerà. Antigone che sfida con il sacrificio della propria vita le leggi scritte della città e lo fa in nome di quelle leggi non scritte dalla fratellanza. Ci sono Medea e Fredera, donne determinate, coraggiose, temerarie, che infrangono i legami e i limiti della natura. Sono donne senza freni, sfrenate e frene, dice il latino. Tutto avviene nel segno della natura e del contronatura. In una seconda fase a questa esaltazione delle grandi passioni, del grande patto somerico e tragico, subentra la filosofia stoica, ovvero il dominio delle passioni, quella che viene chiamata la pazia, l'assenza di sofferenze, l'insensibilità. Soffrire e piangere per questa filosofia non sarà più degno dell'uomo e della sua ragione. Il saggio cercherà di imitare la divinità che è priva di passioni e di sofferenze, impassibile lo stoico come impassibile il suo Dio, che è non sofferente, insensibile, appazzesse. Infine la fase cristiana, la rivoluzione e redenzione del dolore, della sofferenza. Qui nel cristianesimo al Dio stoico in patience subentra il Dio cristiano, Gesù Cristo, patience, il Dio della passione, il quale, come dirà poi Agostino, stando sulla croce dimostrava non la potenza divina, ma la pazienza umana, la sofferenza propria di ogni uomo.